Amici della Locanda, benvenuti a questo nuovo video. Come tanti di voi sanno, una cosa che io apprezzo molto delle novità indie che escono nel gioco da tavolo, nel gioco di ruolo, nel nostro hobby, è cercare chicche. E un modo che io uso per esplorare e scoprire novità è la pagina Kickstarter, cioè una delle tante possibilità che ci sono su internet di portale di crowdfunding, cioè progetti finanziati dalla community, per portare alla luce progetti ludici e non solo. Di qualunque tipo. Io uso Kickstarter per esplorare e scoprire novità. E questo è il primo video, nuovo anno, nuovo format, di un nuovo format che farò con una regolarità non proprio precisa, a seconda dei progetti che incontrerò e che mi interesseranno, e vi mostrerò in anteprima quello che mi incuriosisce. Non significa che sia un progetto che io finanzierò, o che quindi voi potete fare quello che volete, io non farò questo video per farvi finanziare progetti. Vi faccio vedere quello che mi incuriosisce e cerco di farvi vedere lasciandovi abbastanza tempo, quindi progetti non finiti, per, se vi interessa, esplorare questi video e magari dare un'occhiata a queste cose che mi hanno incuriosito. Questo è il nuovo format della Locanda Shakespeare per Moschettieri del Giova e si chiamerà il Giova Starter. Quindi, benvenuti, siamo qui e siamo qui per esplorare assieme alcuni progetti che ho notato su Kickstarter. Sono progetti in corso e vi faccio vedere tre cose diverse oggi che mi hanno incuriosito. Come sempre vi ricordo che se vi piace la Locanda Shakespeareana e i format che faccio, se vi va potete lasciarmi un like, un commento se avete domande o consigli o commenti, e se ancora non siete i nostri potete iscrivervi chiaramente alla pagina e ai social e al canale YouTube della Locanda Shakespeareana per Moschettieri e il canale sulla campanella per rimanere aggiornati sulle prossime produzioni. Vedi, come vediamo a schermo, questo è il mio account Kickstarter. Ho selezionato tre progetti che voglio mostrarvi, che voglio mostrarvi perché, credo, possono essere... mi hanno incuriosito e quindi ve li voglio mostrare. Sono nella mia lista da tenere d'occhio, mettiamola così. Il primo progetto di cui voglio parlarvi è un progetto di gioco di ruolo, ovvero sia The Hike That Binds Us, Wintertide Expansion. È un'espansione di un progetto analogo che io ho sostenuto quest'anno e che mi è già arrivato, ed è un micro GDR indie sulle escursioni in montagna, letteralmente. Quello che vi voglio mettere in luce in questo progetto, che è già funded in realtà, che è già funded, mancano 19 giorni alla taudiana di registrazione, The Hike That Binds, come vedete, ha una grafica abbastanza semplice, ok? E, non so se si nota, schermo... Vabbè, ha... Si basa su mappe di escursionismo, ok? Il gioco di ruolo è pensato apposta per rappresentare l'interazione, per rappresentare anche l'avventura di un'escursione. Vi segnalo questa campagna perché, innanzitutto, è molto interessante il nuovo tema, quindi, invernale, se vogliamo, per cui il concetto di scalare delle rocce, andare in montagna, superare degli ostacoli anche fisici importanti, il ghiaccio, il clima, la natura, animali, ok? Ma consente di accedere, anche con un print and play a un costo, secondo me, assolutamente affrontabile, ha il manuale del core, quindi accede tranquillamente a tutto il materiale del gioco, a un costo veramente simbolico. Io il core ce l'ho fisico, sono molto contento di averlo preso fisico, ok? E la cosa interessante è che hanno questo approccio, un altro nuovo e fresco, a un oggetto quotidiano. Veramente, veramente interessante. L'altra cosa che hanno fatto è che sono due aspetti che vi mostro qua a schermo. Innanzitutto, si può usare qualunque mappa di escursionismo per giocare, quindi non ne hanno create due nel core e una in questa espansione, ma se avete una vostra mappa di escursionismo, potete usare quella e questo lo trovo sia geniale. L'altra cosa è che si può giocare da remoto, perché è pensato, in questa logica siccome è un po' romantica, per mentre andiamo in montagna e giochiamo a un gioco sulla montagna, quindi basta che ti ascolto e si gioca assieme. Molto molto interessante. È un piccolo progetto, l'idea è molto simpatica, è particolare e quindi ve lo voglio segnalare come primo Jova Starter di questo 2021. Il secondo Jova Starter che voglio proporvi è questo Mint Bid, che è un micro gioco da tavolo in latta, vedete, è condotto da una scatola di latta, di scommesse. Questa realtà che lo produce, che è la Pochetto, io li seguo da un po' e ho già finanziato altre cose loro, fanno micro gaming, come sapete io apprezzo molto, in latta, quindi sono dei Mint, cioè piccole scatole di mentine di latta, ognuna contiene un gioco in scatola completo. Io ne ho dei loro diversi e mi piacciono molto e questo è il nuovo progetto che è uscito. Innanzitutto ha un costo veramente simbolico, molto piccolino, è un piccolo oggetto, molto interessante di far vedere come funziona, e poi consente soprattutto di accedere al catalogo dei loro prodotti, quindi se vi interessa l'idea è possibile aggiungere, come vedete, altri dei loro giochi, quindi hanno un cooperativo, hanno un pick up and delivery micro, hanno un micro gestionale, ognuno in contenuto, una piccola scatola di latta, io amo il micro gaming, come sapete. Come funziona Mint Bid? È una presa, è una variante, diciamo, del meccanismo di aste, no? Molto semplice, si mescano delle carte all'asta, dei luoghi, e poi si scommette, ok? Ogni giocatore avrà tot punti che possono essere scommessi, si fanno una scommessa o da soli o con uno dei due vicini, questa è la cosa interessante, e chi vince, chi vince la scommessa, prenderà il luogo, chiaramente. La scommessa può essere aperta o chiusa, quindi con le puntate coperte o scoperte, ma la cosa che trovo interessante è che, innanzitutto, come vedete, i luoghi hanno, vabbè, hanno un effetto speciale che cambia da luogo a luogo, potrebbe essere singolo, immediato, a fine partita, quant'altro. Quando io vinco un'asta, se la vinco con uno dei miei due vicini, l'edificio va tra me e lui, ma se anche la vinco da solo, va comunque posizionato l'edificio tra me e il mio vicino di tavolo. Cioè, vuol dire che io avrò dei set di edifici che avrò vinto alla mia destra e alla mia sinistra. Entrambi conterranno per entrambi, quindi non è così banale vincere, cioè non basta vincere le aste per fare punti, ma bisogna anche stare attenti a con chi ci alleiamo e cosa facciamo. Ogni edificio ha un effetto, inoltre il colore dei puntini colorati che vedete a schermo è una sorta di set collection, perché quando piazzo un edificio, lo piazzo di fianco a uno che ho già costruito, se il colore matcha, sono dei bonus in punti vittoria. Il gioco è velocissimo, è da 3 a 6, ha dentro una variante per 2, ha dentro una variante in solitario, quindi una AI anche, e stanno sbloccando altre cose, quindi è piccolo, interessante, e è un piccolo progettino che a me piace moltissimo, e come microgaming ve lo consiglio come secondo giova starter di quest'anno. Ultimo giova starter che vi propongo è questo Darwin's Journey, che è un gioco molto molto cicciuto, proprio un gioco grosso, un Eurogame molto molto trasto, come vedete c'è un sacco di roba dentro, che è una ripresa ludica come Eurogame, quindi un piazzamento dei lavoratori, dei viaggi di Darwin alle Galapagos. La cosa che ha, a parte delle componentistiche molto belle, per le precisi funzionamenti del gioco vi lascio ai video che sono contenuti nella campagna e che sono fatti molto bene. Il funzionamento è, come vedete ci sono delle mappe delle varie isole delle Galapagos e c'è un movimento, sono i viaggi del Beagle, la nave su cui era Darwin e ha esplorato le specie delle isole delle Galapagos, quindi ci si muove tra isole, ci si accampa, si cercano reperti, si studiano animali, ha elementi set collection, ha elementi di punti, ma l'altra cosa che è molto particolare, che mi è piaciuto a un botto, è che i lavoratori hanno, ognuno di loro, come vedete hanno una carta, questa è una carta di un lavoratore, hanno dei simboli colorati, sono quello che ha studiato, quindi non posso mettermi i lavoratori dove voglio, ma i miei lavoratori devono studiare, quindi migliorarsi e cambiare per poter accedere a postazioni diverse, azioni differenti. Questa è una cosa molto bella, molto interessante perché aggiunge un livello, ovviamente di complessità, ma vuol dire che io posso modificare quello che i miei lavoratori possono fare, e quindi devono studiare per poter accedere a esplorazioni, e questa è una cosa veramente interessante, veramente veramente figa, e quindi lo rende molto tematico in realtà. Poi c'è il concetto di mandare a casa lettere con le tue scoperte, c'è il concetto di mandare reperti alle società che si scoprono nuova fauna, nuova flora, per poter dare il proprio contributo alla scienza, e quindi ci sono punti gloria da tutto questo punto di vista, c'è il senso di esplorazione, quindi ogni volta che lascio un'isola, lascio indietro un mio esploratore per fare studi approfonditi, quindi c'è un studio anche del movimento sull'isola, non solo della nave. Molto interessante, è un gioco grosso, ok? Oggettivamente qui non è un microgame per niente, molto tosto, molto particolare, a me piace veramente molto, vi segnalo per l'altro che c'è il video di Darwin's Journey del Meeple con la camicia, Flavio super in gamba, ve lo segnalo, guardatelo perché è fatto veramente molto bene, ed è una bella campagna, Thundergriff Games è una realtà che a me piace molto, che ho già finanziato altre volte, e peraltro vi segnalo che vi dà accesso a, nel Pledge Manager, se vi interessa, al loro catalogo Bazaar, che sono i loro prodotti, un po' più scontati probabilmente, in cui trovate cose veramente molto belle, i Wari, per esempio, capolavoro totale, Giova Consiglia, Rolling Ranch, che è il gioco che è stato la Jova's Night, per esempio, molto bello, Tang Garden, Spirit of the Forest, Pod de Vans, quindi dà la possibilità di accedere anche ai loro prodotti, che sono cose piccoline, ma fatte veramente veramente bene, specialmente i Wari è un capolavoro, è una redizione di China, ed è super 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 bello. Questo è il terzo Giova Starter, che porta la vostra attenzione, ovviamente è il più grosso dei tre, che vi propongo oggi, e spero di avervi incuriosito, e dateci un'occhiata, perché è nella mia lista di cose da tenere d'occhio, veramente veramente interessante, amici della Locanda. Amici della Locanda, mi ha fatto benvenuti a questo primo video del 2021, a questa nuova forma della Locanda Shakespeareana, me lo avete chiesto, ho trovato un modo di farlo, quindi qui nasce la nuova forma del Giova Starter, che non sarà una progetticità fissa, perché dipende che progetti trovo, se c'è qualcosa che mi interessa, magari ogni tanto vi farò un video extra, appunto, a tema Kickstarter, per mostrarvi quello che, non quello che io finanzio, ma quello che mi incuriosisce. Ok, poi, se finanziare non un progetto, è a scelta libera, ovviamente. Assolutamente, è un modo per mostrarvi anche quello di nuovo che trovo, ok? Visto che mi è stato chiesto, mi fa molto piacere condividere queste scoperte con voi. Come sempre, se avete commenti, lasciatemi, se avete domande, se avete consigli, io vi ringrazio per la vostra attenzione e il vostro tempo, spero che siete bene, sarà un altro 20-21 sfidante per tutti noi, ma continuiamo a leggere, giocare, stare in contatto, perché è quello che ci tiene sani e salvi, amici della Locanda. Pertanto, non mi rimane che, oltre che ringraziarvi nuovamente per il vostro tempo, non mi rimane che rinvitarvi, se ancora non siete dei nostri, a iscrivervi al canale della Locanda Shakespearean e per Moschettieri e augurarvi un buon tutto e una buona esplorazione a Missile Locanda. Pace!